Ciao, buongiorno, ben arrivati. Che cosa volevo vedere con voi oggi? Allora, siccome uno dei corsi online che vanno maggiormente è il corso corpo su struttura, oggi volevo farvi un piccolo regalo e quindi volevo vedere insieme a voi come creare la famosa struttura in fil di ferro, ok? Che poi è una questione anche lì di abitudine, di manualità, è tutto, però insomma, magari qualche piccola accortezza può essere utile. Quindi vi giro e cominciamo, così lo vediamo insieme. Allora, come vedete io ho un... ecco qui, il foglio con le proporzioni. In questo momento, ecco, dobbiamo avere un po' di pazienza perché chiaramente l'inquadratura è stretta e il foglio è largo. Mi direte, avresti potuto prepararti in una un po' più piccola. Sì, avete ragione, non l'ho fatto e non ho avuto tempo. Ciao Deborah, un bacio, ciao cara. Allora, quindi, quando voi dovete creare un corpo, quello che io vi consiglio è di avere sempre un esempio di fianco, delle dimensioni nelle quali dovete realizzare appunto la bambolina o quant'altro. Questo perché? Perché ovviamente andare a ragionare, diciamo, a mente, a memoria è indubbiamente molto più difficile, ok? Quindi, che cosa utilizziamo per creare una struttura in fil di ferro? Io personalmente si possono usare, si può usare di tutto. Io personalmente utilizzo del fil di ferro, di quello proprio da ferramenta, nel senso lo compro dal ferramenta. In questo caso, questo è 1.5, è già un, come si dice, un filo abbastanza spesso, diventa poi difficoltoso andarlo a lavorare. Quindi, la misura ideale è 1.2, va bene? Oltre al fil di ferro, io solitamente utilizzo un wires per fiori, della misura, diciamo, tra i 16 e i 18 gauss come dimensioni. Quindi, come vedete, è un filo abbastanza spesso, è quello che si utilizza solitamente per i gambi dei fiori, ma comunque ancora abbastanza, abbastanza malleabile. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare, qual è? È cominciare a, innanzitutto, trovare, come si dice, il bandolo della matassa qua, perché non riesco a... Ah, eccolo qua, era nuovo questo, quindi abbiate un po' di pazienza. Bene? Partiamo dal piede, saliamo fino alla testa. Dopodiché, andiamo a... Ve l'ho detto, ho dei piccoli problemi di inquadratura. Andiamo a raddoppiare, ok? In questo modo. A questa misura, noi dovremmo aggiungere l'altezza della dummy, va bene? Che è fondamentale. Quindi, ora, io non ho dummy in questo momento, considero un più o meno 4 dita, e mi prendo... Vabbè, facciamo un pochino più in abbondanza, tanto a tagliare siete sempre in tempo, ok? Ricordate che a tagliare potete sempre tagliare, aggiungere diventa ovviamente più difficile, ok? Quindi, ci siamo trovati con questo filo. Che cosa facciamo? Lo prendiamo e lo pieghiamo esattamente a metà. In questo modo. Andiamo, praticamente, a creare, vedete, un anello, qua su, così. Dopodiché, con una pinza, aiutatevi con la pinza perché altrimenti tenerlo semplicemente con le dita diventa un pochino più difficile. Ora ve lo dico subito che l'inquadratura non sarà facile. Cosa facciamo? Indice e pollice contrapposti. Andiamo a ruotare, così, in questo modo. E facciamo un paio di giri. Facciamone tre, così siamo tranquilli. Praticamente questo che cosa sarà? Sarà il collo della mia bambolina. Adesso prendiamo il wires per fiori, più o meno lo mettiamo, diciamo così, a metà, ok? E andiamo a fare tre giri intorno al wires, intorno al fil di ferro, avendo l'accortezza di lasciare il wires per fiori rivolto verso l'alto, ok? La stessa cosa la andiamo a fare dall'altra parte, quindi uno, due e lo andiamo a lasciare girato verso l'alto, così, va bene? Adesso, questo lo mettiamo dritto. Oh, bello signore, ok. Vedete che io ho segnato un triangolo? Dobbiamo andarlo a creare questo triangolo. Quindi, ci prendiamo la misura, in questo modo, uno e due, di qua. Vi ripeto, ci vuole un po' di, come si dice, di allenamento, come in tutte le cose. Qua gli si è stortato il collo, quindi, ok. Raddrizziamoglielo. Ed eccoci qua. Adesso, dobbiamo creargli una, diciamo, un sostegno interno, va bene? Quindi, sempre con il, con la pinza, andiamo a fissare in questo modo e facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto per il collo. Quindi, uno, due, tre, facciamone anche quattro, tanto sono meno ne dovremmo. Vediamo se ci siamo. Ok. A questo punto dobbiamo creare i fianchi. Quindi, più o meno un dito, in questo caso. Uno. E due. Due. Ciao Letizia! Bene, sono molto contenta che i teschietti ti servano. Sono molto, 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 molto contenta. Bene. Non vedo la... Mandami le foto, poi, man mano che fai i lavori, eh, mi raccomando. Adesso ve la sistemate un pochino. Ok? Ok. Andiamo a controllare. Come vedete, siamo all'interno della nostra, della nostra figura. Quando realizzate la struttura in fil di ferro, tenete sempre conto del fatto che poi dovete mettere la pasta di zucchero. Quindi, se noi la struttura in fil di ferro la facciamo arrivare proprio al, ehm, al bordo, il rischio poi che quando aggiungo la pasta di zucchero ovviamente venga molto, ehm, molto grossa. E quindi alla fine mi risulti sproporzionata. Ciao Nicole! Ciao tesoro! Un bacio! Adesso, una volta fatto questo, come vedete abbiamo praticamente, praticamente abbiamo finito. Andiamo a crearci solo un attimo le spalle. In questo modo. Ok? E praticamente abbiamo, abbiamo fatto. Qui abbiamo il braccio, abbiamo l'avambraccio e qui avremo l'altro. Poi ovviamente, come vi dico sempre e vi faccio e vi insegno sempre nei miei corsi, ci sono tanti modi per andare a modellare sulla struttura in fil di ferro. Non esiste un metodo solo, ok? Perché possiamo lavorare in aggiunta, possiamo lavorare in eliminazione, cioè andando a eliminare l'eccesso, oppure possiamo semplicemente andare a modellare aggiungendo un quantitativo di pasta sufficiente. I metodi sono veramente tantissimi, non ne esiste soltanto uno, ok? Ciao Elisa! Quindi, ora io vi faccio vedere come rifinire ancora un attimo la struttura. Quindi, ora io vi faccio vedere come rifinire ancora un attimo la struttura. Ora io vi faccio vedere come rifinire ancora un attimo la struttura.